dopo che qualche tempo fa ho presentato il video su phoenix os sono arrivate molte richieste su come modificare l'aspetto di questo sistema che effettivamente è davvero truzzo ne convengo il sistema intendiamoci va veramente molto bene è molto veloce molto performante si adatta a tanti computer anche datati è ottimo per il gaming però la parte grafica lascia un po a desiderare non volendo fare un video specifico su come fare le modifiche a phoenix os ho pensato tuttavia che un bel video su come personalizzare completamente l'aspetto del proprio computer possa essere gradito diciamolo pure sarà un video un filino diverso questo qui rispetto al tenore classico del canale ma ogni tanto una divagazione sul tema direi che non fa male tu cosa ne dici ti senti pronto iniziamo cucù benché l'aspetto grafico classico di windows sia anche tutto sommato gradevole funzionale talvolta può venir voglia di cambiare il proprio sistema operativo e personalizzarlo come è stato fatto in maniera parziale per esempio in questo sistema che ti sto presentando e facendo vedere in questo momento oppure con una personalizzazione decisamente più pesante come questa con uno sfondo animato pulsanti personalizzati sul desktop indicatori delle performance del computer la possibilità di prendere direttamente delle note semplicemente cliccando in un angolo la data in formato personalizzato il cestino gestibile direttamente dal desktop la trail bar ha scomparsa e la task bar ridotta e con i bordi arrotondati eppure ti posso garantire che quelli che hai visto fino ad ora altro non erano se non esattamente questo windows che stai osservando in questo momento modificato per mezzo di alcuni programmini molto semplici da scaricare ed utilizzare vediamo l'insieme uno per uno per scaricare il primo programma che ci servirà apriamo il nostro browser nel motore di ricerca digitiamo rain meter effettuiamo la ricerca e vediamo che il primo risultato riguarderà il sito rain meter punto net andiamo ad aprirlo e ci accorgiamo subito che rain meter va bene per windows 7 o superiori quindi naturalmente questo programma può essere usato su windows 7 8 10 11 e così via clicchiamo su download e il file verrà scaricato molto rapidamente andiamo ad aprire la cartella in cui è stato scaricato il file dopodiché tagliamo cliccando con il pulsante destro e scegliendo taglia il file stesso chiudiamo momentaneamente il browser e cliccando con il pulsante destro in un punto qualunque del nostro desktop andiamo a creare una nuova cartella che potremo chiamare ad esempio twix apriamo la cartella che abbiamo appena creato clicchiamo con il pulsante destro e incolliamo il file di rain meter a questo punto possiamo chiudere la cartella retrostante e lanciare l'installazione di rain meter facciamo doppio clic accettiamo con ok la lingua italiana lasciamo installazione standard clicchiamo su avanti lasciamo spuntate entrambe le voci e clicchiamo su install accettiamo come sempre che vengano apportate modifiche al sistema e clicchiamo su chiudi lasciando attivo il segno di spunta su esegui rain meter a questo punto andiamo in un punto qualunque di questa finestra clicchiamo con il pulsante destro del mouse e scegliamo smonta skin una skin è appunto l'aspetto che possiamo dare ad alcune componenti del nostro computer grazie a rain meter ma quello che vorremmo fare adesso sarà di procurarci la nostra skin preferita quindi cosa facciamo andiamo nuovamente ad aprire il nostro browser e digitiamo nuovamente rain meter effettuiamo la ricerca e questa volta anziché scegliere la prima voce relativa al sito rain meter punto net come abbiamo fatto in precedenza scenderemo un po più giù sul sito che si chiama visual skins punto com e cliccheremo sulla voce rain meter skins nella pagina che si apre abbiamo alcune skin che ci vengono presentate le skin lo ripeto appunto sono come vedi l'aspetto grafico che possiamo dare al nostro computer grazie a rain meter proviamo a questo punto a scaricare la skin simple clean clicchiamoci su scendiamo in basso fino al pulsante download simple skin e ci facciamo clic su la skin viene scaricata e anche questa volta andremo ad aprire la cartella in cui è scaricata fare clic destro sulla skin e tagliarla chiudere nuovamente tutto quanto entrare nella cartella twix e andare sempre con il pulsante destro ad incollarla come vedi le skin hanno sempre la forma di una goccia di colore verde che cosa succede se facciamo doppio clic su simple skin ci si apre la finestra di configurazione di simple skin dove potremo lasciare tutto quanto esattamente come e cliccare sul pulsante install vediamo che sparisce la skin precedente e ci viene presentata la prima scelta di configurazione per simple skin chiudo la cartella dietro perché in questo modo possiamo vederlo meglio e vediamo che la prima cosa che possiamo fare è andare a scegliere il colore che andremo ad attribuire alla nostra skin in questo caso io lascio il colore bianco la seconda voce che possiamo andare ad impostare riguarda la località in cui ci troviamo e sì perché nel momento in cui questa skin ci fornirà i dati del meteo dovremo impostare la località precisa per trovare il nome della nostra località da sostituire a questo dovremo andare nuovamente sul nostro browser e nel motore di ricerca andare a cercare weather codes effettuando la ricerca vediamo che il primo sito si chiama proprio weather.codes e ci consente di individuare i codici di località per l'italia quindi ci clicchiamo su scegliamo la città in cui ci troviamo in questo caso io sceglierò genova che corrisponde al codice it xx 0031 lo selezionerò e cliccherò con il pulsante destro per andare a copiarlo a questo punto all'interno del programma andrò con contro il v oppure con il pulsante destro ad incollare il codice corretto per quanto riguarda il linguaggio non tutte le skin sono tradotte in italiano ma sicuramente possiamo fare un tentativo cliccando su english e andando a sostituirlo con italian a questo punto scegliamo i gradi celsius che sono il nostro modo classico per indicare le temperature e clicchiamo sul pulsante close settings a questo punto possiamo andare a modificare ulteriormente la nostra skin anche perché sinceramente non conoscevo questa skin che ho scelto a caso e vedo che per esempio non dispone della lingua italiana e che non mostra la corretta temperatura ma va benissimo per il nostro scopo illustrativo perché per rain meter sono disponibili tantissime skin tra cui potrai scegliere alcune più configurabili alcune con più opzioni tra cui appunto la lingua italiana e altre con meno opzioni per configurare meglio una skin possiamo andare su un punto qualunque di questa skin cliccare con il pulsante destro e ci si aprirà un piccolo menu ma molto completo quello che vorremmo fare sarà andare sul nome della skin in questo caso simple clean che fino ad ora ho chiamato simple skin e andare a selezionare ciò che vogliamo che sia mostrato per esempio vediamo che sullo sfondo c'è questo messaggio di saluto se vogliamo andare a far sparire il messaggio di saluto andando su gris vediamo che gris punto in ha un pallino nero che significa che è attivo se glielo andiamo a togliere il messaggio di benvenuto scomparirà allo stesso modo in questo punto si vede solo il simbolo dei gradi celsius ma non si vede la temperatura quindi andiamo a cliccare nuovamente andiamo su simple clean cerchiamo il settaggio relativo al tempo atmosferico weather.ini e andiamo a toglierlo e il piccolo pallino è scomparso probabilmente non vorremmo vedere neanche questo menu che ci consente di accedere direttamente a determinati siti e comunque è configurabile con una procedura un pochino più complessa quindi andiamo nuovamente a cliccare con il pulsante destro scegliamo simple clean andiamo sulla voce menu panel e andiamo a disattivarlo come vediamo ora si è creato un grosso spazio tra il player che è questo qui in basso e l'orologio quando vogliamo spostare un elemento relativo alla nostra skin ci basterà trascinarlo semplicemente andare a riposizionarlo lo stesso possiamo fare per esempio con questa barra separatrice quindi andiamo a posizionare in maniera più corretta tutti quanti gli elementi che vogliamo mantenere dopodiché con il pulsante destro per evitare di spostarli accidentalmente in futuro potremo sempre fare clic e nella voce impostazioni andare a togliere il segno di spunta su trascinabile fatto questo la seconda cosa che potremmo voler fare sarà di modificare l'aspetto della nostra barra delle applicazioni per farlo apriamo nuovamente il nostro browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare nel caso di windows 11 taskbar x i nel caso di windows 10 taskbar x siccome questo computer è un windows 11 digiterò taskbar x i ci sono due siti da cui possiamo andare a scaricarlo ti consiglio però di usare il secondo cioè github perché su questo sono solitamente presenti le versioni più aggiornate clicchiamoci su e in basso a destra alla voce release andiamo a cliccare sul pulsante che nel mio caso dice più 4 release il numero potrà essere diverso se scaricherai questo programma dopo un po di tempo dalla realizzazione di questo video quello che vogliamo scaricare sono questi due file il primo file che si chiama appunto taskbar x i punto ex e il secondo file che si chiama taskbar x i m f c gui punto ex e andiamo a scaricarli chiudiamo per il primo scarichiamo anche il secondo e andiamo ad aprire la cartella a questo punto possiamo nuovamente chiudere il nostro browser selezionarli entrambi e spostarli nella cartella twix chiudiamo questa cartella qui apriamo la cartella twix andiamo a fare doppio clic sul file taskbar x i facendo attenzione a una cosa ci potrebbe venire detto infatti che mancano alcune dll in questo caso nessuna paura ci basterà scaricare semplicemente un programma della microsoft che va ad aggiungere proprio questi file mancanti sul nostro computer quindi clicchiamo su ok la prima e la seconda volta apriamo google chrome per andare sul sito www.gentiluomodigitale.it dove ho preparato per te sia questo file sia il rain meter qualora volessi scaricarlo direttamente da lì sul sito gentiluomodigitale andiamo alla voce download scendiamo un po' più in basso e vediamo che il file che ci interessa è relativo al microsoft visual c++ clicchiamo sul pulsante per scaricarlo e vediamo che il file viene trasferito sul nostro computer andiamo a mostrarlo nella cartella e trasciniamo anche questo file nella cartella twix chiudiamo le cartelle aperte apriamo la cartella twix e andiamo ad estrarre questo file facendo clic destro e scegliendo la voce estrai tutto clicchiamo sul pulsante estrai e facciamo doppio clic sul file per installarlo accettiamo i termini e le condizioni di licenza facciamo clic sul pulsante installa e accettiamo le modifiche al dispositivo come sempre clicchiamo sul pulsante chiudi chiudiamo questa finestra e proviamo a reinstallare la nostra taskbar xe ecco fatto la taskbar xe si è aperta ed ha automaticamente configurato la nostra barra delle applicazioni in un certo modo allora facciamo doppio clic sul secondo file che abbiamo scaricato e andiamo a selezionare le voci ignore max no tray e hide tray clicchiamo su applica e vediamo che scompare momentaneamente la nostra system tray a questo punto possiamo chiudere il programma e la cartella quello che faremo adesso invece sarà di personalizzare il nostro sfondo per prima cosa andiamo a scaricare una bella immagine quindi apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare wallpaper cave il primo risultato wallpaper cave relativo al dominio wallpaper cave.com sarà quello che ci interessa clicchiamoci su e andiamo a scegliere qualunque sfondo sia di nostro gradimento possiamo anche fare riferimento alle varie categorie che ci vengono mostrate nell'icona in alto io sceglierò questo sfondo cliccherò sul pulsante download wallpaper chiuderò il browser e aprirò la cartella in cui lo sfondo è stato scaricato lo trascinerò sempre nella stessa cartella twix e chiuderò la cartella che rimane aperta e vuota aprendo la cartella twix cliccando con il pulsante destro sullo sfondo che abbiamo appena scaricato e scegliendo imposta come sfondo del desktop chiudiamo la cartella e andiamo adesso ad animare questo sfondo per farlo apriamo nuovamente il nostro browser e nel motore di ricerca cerchiamo lively wallpaper effettuiamo la nostra ricerca e vediamo che il software relativo può essere scaricato direttamente dal microsoft store clicchiamo quindi sul primo risultato relativo a microsoft.com e clicchiamo sul pulsante scarica nell'app dello store a questo punto verremo invitati a far aprire tramite l'apposito pulsante il microsoft store e cliccheremo sul pulsante get dopo qualche secondo si avvierà il nostro download che ci impiegherà un minutino circa a terminare eccoci qua terminato il download cliccheremo sul pulsante open possiamo chiudere il sito vediamo che il software microsoft si apre e ci mostra una serie di diverse possibilità quella che ti ho mostrato era ad esempio l'animazione rain che simula come potrai vedere tra qualche istante una pioggia sul nostro desktop eccola qui la pioggia che scorre ma come possiamo vedere ha sostituito la nostra immagine di sfondo mi scuso per la qualità con cui si vede ma sto lavorando su una macchina virtuale che avendo appunto una scheda virtuale non ha l'accelerazione hardware che invece sicuramente la tua macchina avrà in ogni caso a questo punto per cambiare lo sfondo relativo a questa immagine andremo sui tre puntini sceglieremo la voce customize e cliccheremo su questo pulsante per andare a scegliere uno sfondo differente clicchiamo quindi su desktop andiamo nella nostra cartella twix e reimpostiamo il nostro sfondo e dopo aver premuto il pulsante close e chiusa la finestra retrostante potrai vedere l'animazione sul tuo desktop della pioggia che scorre ma non siamo ancora del tutto soddisfatti e quello che vogliamo fare adesso è andare a cambiare anche l'aspetto del nostro cursore andiamo quindi ad aprire nuovamente il browser e digitiamo questo indirizzo che ti lascio nella descrizione del video quello che dobbiamo fare è iscriverci se non lo siamo già alla pagina deviantart cosa che può essere fatta anche direttamente se hai una mail gmail ti dico sinceramente che io per queste cose utilizzo una mail dedicata che non è la mia mail personale in modo tale che lo spam finisca tutto quanto lì quindi facciamo clic su join scegliamo la voce continua con google ed effettuiamo l'accesso una volta effettuato l'accesso potremo andare a scaricare questo set di cursori per la precisione ti dico che se cliccherai qui in basso su questo pulsante di colore verde verrai trasportato ad un sito il sito di questo designer che contiene una serie di cursori tra cui potrai scegliere io sceglierò questi qui facciamo quindi clic sul pulsante free download attendiamo pochi secondi che il download termini e anche questa volta andiamo ad aprire la cartella chiudiamo il browser e trasciniamo il file zip scaricato nella cartella twix mamma mia che fastidio questo sfondo che si muove sul retro ma va bene apriamo la cartella twix e andiamo a fare clic con il pulsante destro sui cursori appena scaricati scegliamo la voce estrai tutto clicchiamo sul pulsante estrai attendiamo il termine dell'operazione e andiamo ad aprire la cartella cursor and preview a questo punto apriamo la cartella vs cursor 13.0 e clicchiamo con il pulsante destro del mouse sul file che si chiama install scegliamo la voce installa e accettiamo di apportare modifiche al dispositivo quello che potremo fare a questo punto è andare ad aprire il pannello di controllo visualizzare tutte quante le icone aprire quella del mouse e nella voce puntatori nell'elenco troveremo i nostri nuovi vs cursor 13.0 clicchiamo su applica clicchiamo su sì e vediamo che la nostra combinazione di cursori viene sostituita l'ultimo tocco di finezza che possiamo a questo punto applicare è quello di fare scomparire anche le icone dal desktop per farlo clicchiamo con il pulsante destro del mouse andiamo sulla voce visualizza e togliamo il segno di spunta a mostra icone del desktop ed ecco qui che avremo personalizzato il nostro windows naturalmente questo video voleva essere semplicemente un'infarinatura per farti capire come funziona questo sistema molto sarà rimesso alla tua fantasia e per aiutarti nella descrizione ti lascerò tanti link di skin, sfondi e cursori che sicuramente potranno esserti utili per quanto riguarda invece il system tray che ho fatto scomparire cioè quella porzione in basso a destra della barra delle applicazioni se lo riterrai tramite il pulsante che gestisce e rimodella la barra potrai scegliere di farla riapparire se è una cosa che trovi scomoda purtroppo come hai visto gli sfondi animati consumano molto se il tuo computer non ha a disposizione una scheda con accelerazione hardware ma ormai c'è da dire che sono talmente diffuse che sono pronto a scommettere che sul tuo computer come ho detto nel corso del video non avrai questo problema e prima di chiudere altre due precisazioni ho visto che c'è un afflusso incredibile sul sito Gentiluomo Digitale e che la sezione hardware che contiene dei consigli sui prodotti che solitamente metto nella mia lista dei desideri di Amazon e che ho voluto condividere ha riscosso molto successo per cui mi impegnerò particolarmente a tenerla sempre aggiornata nei prossimi giorni se avrai bisogno di acquistare del materiale potrai fare sicuramente riferimento a quella e ultimo ma non ultimo prima di chiudere ci tengo tantissimo a ringraziare di cuore tutti coloro che si sono abbonati al canale e nella fattispecie ringrazio e qui devo leggere perché sono tanti Giuseppe Bordigoni Luca Ghibli Porris64 Tibullo Tibullo Fabrizio Palestri Mike Leone Tony Softdev Red Joe Chili Peppers Luciano Noè Mario Marzorati Luciano Paolinelli Mauro Cominato Veronica Bernardi Ulvia Pierluigi Mandatori e per ultimo Tony Detto questo non mi resta che salutarti ancora una volta e naturalmente darti appuntamento Alla prossima γοra ne e le